Ha vinto 4 a 0 la Cremonese in questo turno di Coppa Italia contro il Francavilla a formazione di Serie C. Due gol per tempo. Clayton e Treli nella prima trazione, doppietta di Palombi nella ripresa. Primo tempo abbastanza insidioso con qualche occasione per il Francavilla, poi una volta sbloccata la situazione non c'è più stata storia e la Cremonese ha vinto agevolmente. Domenica, trasferta a Verona per i grigiorossi.